e dunque l'ultimo passo di cui abbiamo parlato due giorni fa l'abbiamo fatto sì è stata una mattinata incredibile questa squadra non finirà mai di stupirmi sono ragazzi che non mollano mai sono di sotto di tre go e sono riusciti a recuperare anche nei rigori sono di sotto e non hanno mollato e hanno ribaltato il verdetto io non posso far altro che ringraziare tutti i ragazzi la società che ci è stata sempre vicino addirittura la settimana prima dell'ultima partita con Livorno in casa siamo andati a Carrara in ritiro perché vincendo a Carrara avremmo vinto il girone la società ci ha accontentato siamo andati a ritiro abbiamo vinto il girone e poi vi ringrazio tutti al direttore Tromboni a Roberto Muzzi a Sabatino a signora Russo che sono stati con noi per questi quattro giorni ci hanno fatto sentire il calore della società ai presidenti Manzo che ad ogni partita e ad ogni vittoria mi telefonavano per farci i complimenti a me e ai ragazzi la società ci è stata veramente vicino e ci ha secondato in tutte le nostre richieste e in più faccio un grosso abbraccio al mio staff sono stati quattro ragazzi che mi hanno aiutato tantissimo una dedica per questa vittoria? una dedica la faccio ai tifosi sperando di poter festeggiare il prossimo anno come abbiamo fatto noi quest'estate grazie a tutti grazie a tutti